Ciao, io sono Alex e tu sei su Voglia di Storia, il canale che vuole farvi appassionare la storia e farvi approfondire per conto vostro gli argomenti che vi propongo. Voglio accendervi una curiosità. Il video di oggi parla di un argomento specifico e molto particolare, è infatti la storia di un nome, non ovviamente un nome qualsiasi, il nome di una famiglia, una famiglia che non è una famiglia qualsiasi, il nome è il nome della famiglia reale britannica, i Windsor. Vedete, questo nome non è sempre esistito, la famiglia si chiama così dal 1917 e questa storia è molto significativa, perché non è un particolare secondario aver cambiato nome, ci sono delle ragioni precise e anche abbastanza serie. Andiamo con ordine. La famiglia reale britannica affonda le sue radici nel mondo tedesco, perché vedete, fin dal XVIII secolo sul trono era salita una linea dinastica che discendeva dagli Hannover, una casata reale che appunto aveva origine nel mondo tedesco. Nel XIX secolo la regina Vittoria sposa il principe Albert della casata dei Sassonia Coburgo-Gotta. Quindi le radici tedesche sono abbastanza evidenti. Per parecchio tempo questo era stato un problema relativo che non aveva suscitato grandi difficoltà. Quando arriva la prima guerra mondiale si accende invece una problematica. Vedete, le famiglie reali erano imparentate e su questo vi rimando un video del professor Barbero, bellissimo, che racconta le lettere tra i vari sovrani che erano cugini prima dell'inizio della guerra. Magari ve lo metto in descrizione. Tornando al nostro argomento del nome dei Windsor. In Gran Bretagna il fatto che la famiglia reale avesse un nome tedesco inizia piano piano a essere considerato un elemento non gradito. Io ho trovato un saggio abbastanza recente, uscito l'anno scorso, sulla vita di Re Giorgio che era al potere durante la prima guerra mondiale della professoressa Ridley, ve lo metto in descrizione. E' una biografia approfondita che spiega bene che Re Giorgio, quando si ritrova a dover confrontarsi con le critiche alle origini tedesche del nome, si ritrova in difficoltà. Perché nel corso della prima guerra mondiale c'è chi avanza delle riserve sul fatto che la famiglia abbia origini tedesche. Addirittura ci sono importanti esponenti politici che definiscono la famiglia una famiglia aliena, non componente del mondo britannico. E queste cose preoccupano tantissimo Re Giorgio. Anche perché nel 1917 la famiglia dei Romanov viene travolta dalla rivoluzione in Russia e in Gran Bretagna c'è chi chiede la Repubblica. Tra questi lo scrittore Wells, scrittore di fantascienza abbastanza famoso, penso che lo conosciate, e la famiglia reale si preoccupa seriamente della cosa. E quindi vuole calibrare bene ogni passo per cercare di rendersi più popolare. In questa situazione si verificano anche dei sommovimenti a corte, in quanto il Re, Re Giorgio, decide di dare mandato al suo consiglio privato, in particolar modo all'esperto di araldica, per verificare se nella storia della famiglia erano presenti dei nomi alternativi da utilizzare, nomi di famiglia, per cercare di darsi un'immagine più presentabile. Inizialmente si era convinti che il nome di famiglia fosse Wattin, ma dopo le ricerche il consigliere specializzato in araldica del Re, suggerisce il nome di Whipper come il nome della famiglia. E Whipper in inglese c'è una parola molto simile per la suonanza, perché c'è un H di differenza rispetto al nome della famiglia e alla parola in inglese, ma praticamente suona molto come fustigatore. Un altro nome che emerge da parte del ramo Hannover è Wealth, ma anche questo nome non piace. Bisogna decidere un nome nuovo. Nel frattempo il sentimento antitedesco del paese monta. I tedeschi bombardavano e un bombardamento che causa più di centinaio di vittime, compresi molti bimbi, suscita un aumento del sentimento antitedesco. Questo viene citato da molte fonti come un elemento che ha spinto la famiglia reale verso questa scelta, anche se devo dire che la professoressa Ridli punte invece molto di più l'accento sulla paura della rivoluzione e dell'ascesa di un movimento repubblicano. Ebbene, si arriva al momento di dover decidere un nome nuovo, studiato a tavolino, perché l'immagine ha la sua importanza, marketing, pubblicità. Non possiamo avere un nome tedesco nel momento in cui essere tedeschi è veramente mal visto e anche tra gli esponenti politici c'è chi mette in dubbio la nostra fedeltà alla causa britannica perché abbiamo un nome tedesco delle origini tedesche e parentele nelle famiglie delle altre casate reali, in alcuni casi anche avversari in guerra. Ebbene, il nostro Giorgio V deve decidere e tra i nomi che vengono proposti dal consiglio privato c'è un nome che fa anche un po' sorridere, Tudor Stewart, una specie di miscela fra nomi di antiche casate britanniche. Non piace anche perché gli Hannover erano arrivati al posto degli Stewart e quindi no, viene scartato. Anche se inizialmente il re era favorevole a questo nome, ma i suoi consiglieri, alcuni suoi consiglieri lo scoraggiano. Alla fine Stanford, che era il segretario privato del re, propone il nome giusto, Windsor, che è tratto dal castello di Windsor, residenza utilizzata da tempo immemore da parte della famiglia e che quindi si adattava bene all'esigenza di dare un nome molto british alla famiglia. Il re scrive nei suoi diari che quel nome gli piace e il 17 luglio 1917 viene emanata una norma da parte del consiglio privato del re, in cui si cambia il proprio nome alla famiglia, si cambiano i titoli, anche non solo del re, ma anche di tutti i componenti della famiglia reale e vengono cambiati i nomi da duca di Tecca, duca di Cambridge, tutto viene anglicizzato, diventa tutto britannico. È un modo per presentarsi meglio alla popolazione e anche per dire che noi non abbiamo niente a che fare con quella gente là. Quindi è una scelta di marketing, però risulta anche abbastanza efficace, perché effettivamente è una mossa che riscontra gradimento nella popolazione, perché fa vedere che anche il re non vuole più saperne di essere identificato con le radici tedesche che in quel momento erano molto mal viste. Quindi il nome Windsor esiste solo da una data precisa, 17 luglio 1917, e sono solo 105 anni che la famiglia reale, 105 anni nel momento in cui registro questo video, che la famiglia reale si chiama così, perché vedete anche i nomi hanno la loro importanza, l'immagine conta. Io vi metto le fonti nella descrizione del video e con questo vi dico appuntamento al prossimo video.